Bandiera gialla Bandiera gialla mashup numero 8 clip tratte dalle puntate integrali del programma Bandiera gialla fatto a Rimini in quell'estate magica del 1983 allora qui c'è il pubblico il pubblico era il vero protagonista del Bandiera gialla si divertivano, si buttavano in alto si andavano sulle spalle, c'era uno che dirigeva c'erano delle ragazze che si toglievano il reggiseno insomma erano apoteosi anche 10.000 persone tutte le sere fantastico, un divertimento globale però c'è un fatto che mi colpì moltissimo che i cantanti anni 60 avevano guadagnato un sacco di soldi ma li avevano dilapidati tutti parlo di Bobby Solo di Ricky Maiocchi di Gianni Pettenati poi chiaramente c'è Luciano De Crescenzo che è il filosofo e che dice che per la prima volta si diverte in discoteca Bonvi, il mio amico Bonvi rappresenta in qualche puntata quello di Stuntruppen e racconta delle sorelle Giussani che negli anni 60 inventarono Diabolic il mito del fumetto Diabolic e a questo proposito il fatto di avere una maschera in viso c'era anche Fantomas Diabolic forse faceva l'occhiellino a Fantomas fatto sta che un gruppo con Jimmy Villotti un mio amico jazzista e Vittorio Volpe batterista fecero i Meteors i Meteors erano un gruppo talmente fuori che mettevano del jazz al Piper Roba Lamatti però parteciparono al film il primo film In ginocchio da te di Gianni Morandi ho scelto di lasciare la mia presentazione a una di queste puntate perché riguardando 40 anni dopo la prima volta che riguardi Bandiera Gialla io ero completamente fuori guardate questa presentazione miei cari amici vicini e lontani buonasera sarà difficile descrivere quello che il pubblico di Bandiera Gialla ha fatto all'interno di questo locale i soldi come li hanno spesi gli artisti degli anni 60 Luciano De Crescenzo farà un intervento e dopo la tempesta della puntata precedente la quiete di questa puntata dopo la rivoluzione la siesta di Bobby Solo signori benvenuti al mio paese quando il sole picchia sulle case tutta la gente chiude gli occhi e chiude le persiane quando è l'ora della siesta è festa per me che invece di dormire io vado a passeggiare da solo col mio amore ebbè eravamo ingenui una volta eravamo ingenui adesso magari siamo un po' scappati dimmi io sto cercando di capire avete venduto milioni di dischi oggi tu mi dicevi oggi pomeriggio che ti sei ritrovato nel 1980 con 360 mila lire in tasca sì però forse è meglio non lo diciamo davanti a tutti perché sennò potrebbero pensare che sono scemo io te l'ho detto in via assolutamente confinanziale no non lo diciamo no ormai l'abbiamo detto per cui dobbiamo prenderne altro ma come si fa ad avere 360 mila lire in tasca dove era venduto un milione di dischi c'è l'acqui potrei potrei paraprasare una battuta che avevo 360 miliardi in tasca ma altri 400 miliardi in banca come disse il famoso manager di Elvis quando tutti gli chiesero ma come mai Elvis vuole solamente 300 dollari per entrare in uno studio televisivo e il vecchio Parker disse perché ce ne vogliono altri 50 mila e 700 per uscirne scherzi a parte ero veramente un po' disastrato in quell'epoca prima di gelosia e non è neanche una vergogna perché in fondo posso dire una cosa che anche se avrò fatto delle operazioni economiche sbagliate posso dire mi sono divertito molto che è la cosa più importante che è la cosa più importante alla fine di tutto la cosa peggiore è ritrovarsi magari avendo scialacquato il proprio denaro ed essendosi annoiati a morte essendosi divertiti può anche essere un fatto quello che uno può vivere di ricordi io per esempio essendo stato legato alla Ricordi per 14 anni per parecchio tempo ho vissuto di ricordi ecco per me i soldi sì d'accordo sono molto importanti però non sono la cosa più importante della vita perché onestamente se io avessi un sacco di soldi però non mi non dovessi sentirmi più io ecco che i soldi secondo me i soldi pregiudicano sempre un'altra cosa è vero che tu hai guadagnato tantissimo e hai scialacquato tutto com'è possibile che capi di questo racconta scialacquato è un termine che può sembrare che io abbia dilapidato dei beni no invece erano le tasse che pretendendo di scialacquare i soldi che ho guadagnato io infatti io non ho mai messo una lira in banca i miei soldi io li mettevo come li prendevo dalle serate li mettevo in un sacchetto di plastica nell'armadio e chiaro che se adesso mi sente mia madre dice che è deficiente vabbè comunque io sono suo figlio e io ho fatto la mia vita così e da questo sacchetto di plastica io ogni mattina prelevavo una manciata non sapevo quant'erano me le mettevo in tasca e finché non eravamo è la prima volta negli ultimi 20 anni che mi diverto in un locale da ballo perché è tornato il sorriso questa era così per fare il sorriso te devi capire che verso la metà degli anni 60 scusa se hai rito ma c'hai una faccia che fa rire no ma tu devi sapere che verso la metà verso la metà degli anni 60 è sparito il sorriso a un certo punto cioè fino a una certa data si è ballato ridendo poi non so perché si sono incubiti capisci hanno incominciato a ballare in maniera sofferta è venuto fuori il rock duro quello rotto così tutto cattivo adesso finalmente è tornato il sorriso educatissime dolci spirituali le quali si inventano questo personaggio vestito da una calzamaglia nera di nome Diabolic improvvisamente l'Italia viene invasa da questi fumetti da questi albi da questi albi a due vignette cada pagina per il modico presso di ir 200 volumetto e improvvisamente la magistratura si scatena corsi e ricorsi storici tutta quanta la criminalità viene da Diabolic sì noi insegniamo i ragazzini a far del male a uccidere gli insegniamo con queste pubblicazioni oscene terribili a irridere alle istituzioni tutto quanto è di sacro e tutto quanto e questo veniva nel 62 il 63 il 68 era molto di là da venire ci sarebbe anche un pochino da pensare se il 68 si ha anche un pochino merito di Diabolic c'è anche un sestetto fenomenale i Meteors ogni volta che siamo insieme a voi siamo felici che veniate insieme a noi i Meteors erano un gruppo lui non c'entra nulla perché Gianni Pettenati e qui perché si conoscono ma i Meteors di cui due sono rimasti erano un gruppo che ha fatto parte del film Nessuno mi può giudicare no è In ginocchio da te In ginocchio da te esatto l'anno era il 1964 Vittorio 64 lui è Jimmy Villotti e lui è Vittorio Volpe lui chitarrista perché avevate le maschere alla Phantom Mass? oh tremendo chi è che si è fatto mettere queste maschere? fu un'idea di una persona tanto cara che noi amiamo però che ogni tanto aveva delle svirgolate che bisognava prenderle abbastonate lei era un quel senza fare i nomi e dice dobbiamo essere originali più degli inglesi loro poi c'era questo modo di dire allora per il film di Gianni Morandi ci prendiamo le maschere alla Phantom Mass a me cadeva la faccia però quando ti vergogni di una cosa dici dov'è una barba finta o di un cappello in questo caso non c'era problema perché erano coperte completamente da questa maschera quindi ma era una vergogna oscena noi suonavamo in quel periodo perché avevamo voglia di suonare in una certa maniera ma senza entrare nel merito di quello che era il come si può dire il business sicuramente tutto il genere cerchiamo delle altre cose altra cosa che voglio dire esatto è probabilmente siamo sempre stati di qualche anno più avanti di quello che potessero essere in modo correnti questo era un dato di fatto e te lo ricordi per dire suonavamo al Piper Club mentre c'era Johnny Ken dell'equip così io e Vittorio facevamo gli assoli presi giù dal disco Miles Davis in Europe pensa a te nel 1964 il disco era del CBS del 61 noi pernavamo giù ESP non so Seven Steps e tu Even non so facevamo un giro di blues a 12 misure in mezzo ci mettevamo le frasi facevamo a 13 14 secondi dei casi facevamo già di questi esperimenti la gente diceva io ho pelato a zero quando era il tempo e i capelloni per dire tu non te l'ho posto quindi abbiamo fatto il film con Gianni non son degno di te non ti merito più pubblicità un po' un po' un po' un po' un po'